Sulla carta circolo privato gestito da un'associazione, in realtà un vero e proprio night club con ballerine di lap dance che approcciano i clienti per indurli a consumare bevande alcoliche. È un locale di Toro, piccolo centro alle porte di Campobasso, in cui nelle scorse ore ha fatto incursione la squadra mobile. All'interno i poliziotti hanno trovato un quadro chiaro, ragazze italiane e straniere in abiti succinti, definite intrattenitrici di sala, che ballavano e chiacchieravano con i clienti. Alcuni venivano poi condotti in ambienti riservati per stare appartati con loro e non tutte erano in possesso del permesso di soggiorno. Non solo perché gli agenti hanno ispezionato anche l'appartamento posto al piano superiore, stanze sporche con materassi sparsi per terra. Dagli accertamenti si è scoperto che il presidente dell'associazione è stato coinvolto in passato in un caso di prostituzione. Al momento non ci sono indagati, ma solo si fa per dire la richiesta al comune di Toro di emissione del provvedimento di immediata chiusura del locale per la gravità delle violazioni riscontrate. E non sarebbe la prima volta perché circa tre anni fa quel circolo, all'epoca presieduto da un'altra persona, venne chiuso dall'ex questore pagano, che applicò l'articolo 100 del testo unico per la legge di pubblica sicurezza dopo che la polizia riscontrò la presenza di numerosi pregiudicati. Nei confronti delle tre donne, intanto di nazionalità straniera risultate non in possesso del permesso di soggiorno, è stato avviato a cura dell'ufficio immigrazione l'iter per l'espulsione. Ma questo non è l'unico locale di cui la mobile ha chiesto la chiusura. C'è anche una discoteca di Campobasso che nelle scorse ore è stata monitorata attentamente. I poliziotti hanno eseguito un blitz mentre era in corso un veglione di studenti, per la maggior parte minorenni, e hanno riscontrato che venivano venduti alcolici ai ragazzini ben oltre l'orario consentito, ovvero le tre di notte. Oltre alle multe è stata inoltrata a istanza al comune di Campobasso per l'applicazione della sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a tre mesi.